buongiorno a tutti continuiamo le nostre lezioni riguardo javascript con la seconda parte nella quale andremo a parlare di elementi più sofisticati e assolutamente importanti per quanto riguarda javascript che sono gli oggetti e le funzioni all'interno delle funzioni tratteremo anche di un argomento molto importante in javascript che sono le closure successivamente ci concentreremo su qualche cosa di utile in particolare in vista del laboratorio che avete da svolgere tra poco parliamo quindi di oggetti come sempre trovate riferimenti a delle risorse più approfondite qui nell'angolo in alto della slide prima di tutto una avvertenza particolare come scritto in cima dimenticatevi gli oggetti basati diciamo così su classi come per esempio sono gli oggetti per dire del linguaggio java qui gli oggetti sono una cosa differente esisteranno poi parleremo anche poi di classi ma sono una cosa che è venuta dopo javascript è basato fondamentalmente su oggetti sul concetto di oggetti nel senso che questi sono oggetti che possono essere modificati durante l'esecuzione del programma possono esistere senza senza il concetto di classe quindi non c'è bisogno di avere un template dal quale gli oggetti vengono creati e tra l'altro sono tutti uguali e si conformano questo template ma sono proprio appunto gli oggetti di un linguaggio ad oggetti puro non basato su classi quindi gli oggetti sono creati direttamente senza derivarli da un template che in altri linguaggi come per esempio in java è chiamato classe gli oggetti sono dinamici in javascript quindi questo vuol dire che questi oggetti possono essere modificati a runtime durante l'esecuzione del programma è possibile aggiungere cancellare ridefinire delle proprietà quindi dei dei campi che contengono dei valori o dei riferimenti a dei valori e anche dei metodi quindi sono un elemento completamente dinamico in opposizione appunto al concetto di classe di molti altri oggetti che di fatto stabiliscono un template al quale tutti gli oggetti di quel tipo devono uniformarsi inoltre in javascript non ci sono metodi di controllo diciamo di accesso agli elementi dell'oggetto quindi alle proprietà ai metodi ogni proprietà e ogni metodo è sempre pubblico quindi non esistono perlomeno nella definizione del linguaggio fino a questo punto oggetti privati e protetti come invece esistono in altri linguaggi prendiamo appunto java come esempio perché è un linguaggio cosiddetto oggetti puro forse dovremmo dire a classi puro a questo punto e quindi è possibile sempre accedere a delle proprietà e alle proprietà di ogni oggetto al metodo di ogni oggetto e questi non sono resi invisibili dal punto di vista del linguaggio inoltre per come funziona javascript non c'è una reale differenza tra le proprietà e i metodi perché di fatto le funzioni sono degli oggetti a se stesse che possono anzi potremmo dire meglio dei riferimenti a se stesse che possono essere assegnate a delle proprietà rendendo tali proprietà quindi di fatto dei metodi perché se possiamo prendere queste proprietà e richiamarle come se fossero una funzione a tutti gli effetti diventano dei metodi quindi fatta questa importante importantissima premessa andiamo a parlare di oggetti nella pratica di javascript un oggetto è una collezione non ordinata di proprietà e dunque essendo non ordinata per accedere ad ogni oggetto abbiamo bisogno di un elemento che è la chiave per esempio un nome e usando questo nome siamo in grado di manipolare il suo valore quindi ogni proprietà ha un nome che è la cosiddetta chiave ed un valore tramite questa chiave cioè il nome della proprietà è possibile andare a modificare immagazzinare dei valori nel valore della proprietà oppure recuperarlo utilizzarlo in espressioni vediamo un esempio pratico così ci chiediamo immediatamente le idee definiamo un punto let point uguale aperta graffa notate una graffa non una quadra questo non è un array è un oggetto e in oggetti in java sono identificati tramite le parentesi graffe nome della proprietà x due punti valore della proprietà questa inizializzazione quindi valore iniziale 2 virgola altra proprietà nome y valore 5 quindi ci troviamo nella condizione descritta qui a destra nella slide disegnata per meglio dire point è un riferimento ad un oggetto in cui ci sono delle proprietà queste sulle righe che hanno un nome x ed un valore in questo caso 2 e 5 come valore prendiamo un esempio leggermente più complicato book un libro autore titolo per quindi il target di questo libro numero di pagine e così via vedete che subito che il valore delle proprietà può essere di tipo diverso quindi possono essere stringhe possono essere numeri possono anche essere dei riferimenti come vedremo tra poco quindi qualsiasi cosa che possa essere assegnata ad una variabile javascript può essere assegnata ad una proprietà di un oggetto javascript la sintassi per accedere al per scusate identificare una chiave quindi un nome di una proprietà è di due tipi in javascript possiamo usare questa sintassi che prevede l'uso delle virgolette quindi come se fossero delle stringhe e in effetti sono delle stringhe oppure la sintassi senza virgolette chiaramente con certi limiti perché per esempio nel caso di presenza di caratteri particolari come spazi è chiaro che il meccanismo non funziona più prima di procedere a vedere altri esempi vediamo questa slide che ci chiarisce bene che cosa sono i nomi delle proprietà i valori delle proprietà per un oggetto i nomi delle proprietà sono identificati tramite una stringa che deve essere unica in ogni oggetto essendo una chiave se non è unica non abbiamo la possibilità di andare a prendere il valore corretto se non fosse così creata durante l'inizializzazione dell'oggetto ma può anche essere aggiunta dopo che l'oggetto è stato creato quindi questa è la principale differenza degli oggetti javascript rispetto agli oggetti di tanti altri linguaggi semplicemente con un assegnamento come creiamo una nuova variabile nello scope con let variabile uguale qualcosa dicendo proprietà oggetto punto proprietà uguale qualcosa possiamo creare la nuova proprietà e può anche essere eliminata con l'operatore delete di javascript questa è una keyword non è molto frequente però può essere necessario talvolta i valori delle proprietà sono dei reference a dei valori javascript se non i valori javascript direttamente per i tipi promettivi come per esempio le stringhe e i numeri sono immagazzinati dentro l'oggetto possono essere come dicevamo tipi primitivi ma anche tipi più complessi quindi nel caso in cui siano array altri oggetti e così via è ovvio che come succede per le variabili viene immagazzinato il reference e non viene immagazzinato il valore stesso tra l'altro possono anche essere delle funzioni come dicevamo prima e questo di fatto fa sì che delle proprietà sostanzialmente diventino quello che in altri linguaggi chiamiamo metodi cioè funzioni che sono richiamate su un oggetto com'è possibile assegnare delle proprietà, accedere a delle proprietà dell'oggetto? ci sono fondamentalmente due notazioni in javascript quella con il punto e quella con le parentesi quadre quindi prendiamo il nostro libro inizializzato tra l'altro qui vedete un esempio di una proprietà pagine dei capitoli che sono che è allora intanto definita con le virgolette in quanto contiene uno spazio e secondo è un riferimento ad un oggetto esterno che è un array quindi siamo in questa condizione in cui c'è chapter pages, nome della proprietà e il suo valore è riferimento all'array poi più avanti avremo anche un secondo riferimento perché abbiamo fatto accesso vediamo appunto come fare accesso persona, person, uguale book.author.author possiamo usare l'annotazione col punto l'annotazione con le parentesi quadre inserendo la stringa che identifica la proprietà con le virgolette se usiamo le parentesi quadre dobbiamo usare le virgolette perché dobbiamo far capire che ciò che passiamo è una stringa quindi di fatto potremmo vederlo come una specie di array indicizzato tramite stringhe il cosiddetto array associativo che esiste peraltro in altri linguaggi anche nel momento in cui abbiamo stringhe che contengono caratteri particolari per esempio spazi e l'annotazione tramite parentesi quadre e virgolette diventa obbligatoria possiamo oltre che leggere le proprietà chiaramente scrivere dentro le proprietà e quindi inserire dei valori con la stessa annotazione book.title buca aperta e chiusa quadra pages uguale un altro valore quindi due notazioni quella del punto e quella delle parentesi quadre con l'attenzione che con le parentesi quadre dobbiamo usare le virgolette perché dobbiamo avere delle stringhe come indici se ne vogliamo considerare degli array e ovviamente non è possibile usarla sempre perché ci sono dei casi come il caso dello spazio che non ce lo consentono gli oggetti quindi li possiamo anche vedere come degli cosiddetti array associativi cioè sostanzialmente se li usiamo con le quadre si comportano più o meno come degli array ma dove le chiavi possono essere delle stringhe e sono in pratica delle stringhe e non sono dei numeri sequenziali 0,1,2 eccetera come invece succede con gli array javascript tradizionali o diciamo così con i vettori di altri linguaggi per esempio c quindi questo modo di accedere a degli array utilizzando delle chiavi qualisiasi è detto array associativo abbiamo visto appunto gli esempi come prima possiamo settare e leggere delle proprietà utilizzando le due notazioni nel momento in cui la proprietà non esiste quindi perso un punto telephone telephone non esiste nel momento in cui la impostiamo comincia ad esistere così come se scrivessimo persona aperta chiusa qua da telephone uguale qualcosa la prima ci ricorda di più la notazione di un array nel quale creiamo un nuovo elemento e essendo indicizzato da una chiave che è una stringa non ha un ordine particolare ma un elemento che esiste indicizzato da una certa chiave che è quella che decidiamo essere il nome della proprietà e così come creiamo possiamo distruggere le proprietà con questa sintassi del delete quindi di fatto se vogliamo se può venire utile nel vostro sviluppo di codice durante l'utilizzo di javascript per immagazzinare delle informazioni possiamo anche usare degli oggetti come degli array in cui abbiamo delle chiavi che non sono numeriche quindi questa è una delle possibilità di usare degli oggetti dinamicamente diciamo ridefinibili in termini delle loro proprietà per diciamo semplificare del codice che altrimenti diventerebbe complesso se avessimo la possibilità di accedere solamente tramite indici numerici i nomi delle proprietà possono essere anche delle stringhe calcolate in qualche maniera quindi non è forse una maniera la maniera migliore di diciamo programmare perché diciamo calcolare in maniera dinamica questi nomi delle proprietà forse indica che avremmo dovuto utilizzare un meccanismo diverso per farvi accesso per esempio che so un array un array con indici numerici e così via se i fosse l'iesimo elemento dell'oggetto e così via però è possibile farlo quindi qualsiasi espressione javascript che ci ritorni una stringa può essere utilizzata come una chiave mi raccomando nel momento in cui utilizziamo le stringhe come chiavi esse devono essere identificate per javascript come delle stringhe quindi virgolette quindi la proprietà è chiamata titolo se noi scriviamo titolo senza virgolette usando le quadre e non il punto ci aspettiamo che esista una variabile titolo che contenga una stringa che è diverso da dire che la proprietà si chiama effettivamente titolo quindi se la variabile titolo non esiste chiaramente questa espressione sarà undefined e non non ci consentirà di accedere a nulla all'interno dell'oggetto e non c'è un equivalente nella notazione col punto quindi non possiamo scrivere punto dollaro o qualcosa o cose di questo tipo perché non funziona non c'è un equivalente nel momento in cui accediamo a delle proprietà all'interno di un oggetto dobbiamo fare attenzione perché se le proprietà non esistono è come accedere ad un array in cui la chiave non esiste l'elemento non esiste quindi è sempre bene se non siamo sicuri al 100% durante lo sviluppo del nostro programma che la proprietà esista è sempre possibile andare a verificare se esiste e questa è la sintassi quindi possiamo usare dei semplici if quindi book se book non è un oggetto vuoto quindi non ritorna un valore che è cosiddetto false entreremo nell'if e quindi abbiamo la possibilità di andare a verificare se la proprietà non è falsi e quindi non è undefined scusate in questo caso è undefined quindi è sempre un valore false e se la proprietà è definita entriamo dentro e così via quindi prima controlliamo che esista l'oggetto poi che esiste la proprietà e poi andiamo a prendere la sottoproprietà che sarà poi la proprietà dell'oggetto referenziato da author in questo caso è anche possibile usare una sintassi un po' più diciamo semplice come abbiamo visto quello della doppia barra verticale che era il valore di default questo col doppio end fa sì che se questo valore è truth quindi esiste l'oggetto possiamo andare a prendere il valore che sta a destra dell'espressione quindi andare a verificare se book author in questo caso avendo messo la doppia commerciale è truth e andare a prendere l'ultimo valore quindi il surname che è una proprietà dell'oggetto referenziato da author e questo è il valore dell'espressione che viene inserito in surname altrimenti nel momento in cui non succede questo sostanzialmente avremo un valore che è undefined quindi diciamo con un'unica riga abbiamo la possibilità di andare ad accedere a queste proprietà e avere un valore che possiamo testare successivamente se non adottate questa sintassi nel momento in cui per esempio non esiste la proprietà author se voi andate direttamente a scrivere book.author.surname si verifica un errore di esecuzione a runtime e quindi questo ovviamente non è desiderabile perché si blocca l'esecuzione del programma ma con questa sintassi diciamo siamo in grado di gestirlo perché non viene eseguito questo pezzo nel momento in cui la parte precedente non ci consente di andare avanti quindi non è un valore truffi e quindi non ho l'errore di esecuzione al tempo stesso però successivamente posso andare a testare se effettivamente c'è un qualcosa che mi interessa nel valore nella variabile sul name è possibile iterare sulle proprietà di un oggetto spesso abbiamo necessità di andare a vedere che cosa abbiamo messo dentro un oggetto pensate al caso precedente degli array associativi come dicevamo ma anche in altri casi e il meccanismo è il for in che non è il for off vi ricordo per gli array abbiamo visto il for off per gli oggetti vediamo for in quindi for in quindi for let a in oggetto console log a e a assume i valori delle varie proprietà notate bene scusate i nomi delle varie proprietà non i valori quindi i nomi sono x e y non in questo caso vediamo un esempio leggermente più complicato book l'oggetto di prima autore pagine eccetera for const prop in book qui possiamo usare const perché la variabile prop viene ridefinita ad ogni interazione del ciclo prop conterrà le varie proprietà nel senso dei nomi delle varie proprietà quindi diventerà successivamente author pages chapter pages facciamo un esempio console log template literal quindi questo backtick dollaro prop valore di prop uguale ecco come facciamo ad accedere al valore della proprietà bene usiamo la notazione con le quadre e quindi book aperta quadra prop prop è una variabile quindi può essere usata come chiave all'interno dell'area associativo book o meglio in javascript dell'oggetto book ma è la stessa cosa e quindi siamo in grado di stampare chiave uguale valore o se volete nome della proprietà uguale valore della proprietà ok tutti i nomi delle proprietà enumerabili di un oggetto possono essere accedute tramite un array che creiamo in questa maniera con un metodo di object quindi object.keys aperta tonda my object chiusa tonda ok quindi qui c'è l'oggetto questo ritorna un array con tutti i nomi delle proprietà e dico tutti quelli enumerabili perché vedremo più avanti che ci sono degli oggetti hanno anche delle proprietà non enumerabili ereditate eccetera che insomma non stiamo a precisare in questo momento lo vedremo più avanti ma tutto quello che inseriamo noi è enumerabile le coppie chiave valore sono ritornate come array con questa sintassi object.entries quel metodo che tra l'altro avevamo già visto sugli array quindi qui si comporta nella stessa identica maniera se passiamo un oggetto e avremo un array che contiene degli un certo numero di array di due elementi in cui il primo valore è la chiave il secondo valore dell'array è il valore quindi se noi dovessimo scorrere per qualche motivo per esempio all'interno di un for per qualche motivo dover conoscere diciamo dover creare copie nome valore possiamo usare facilmente a tale scopo facilmente questo metodo entries quindi un altro modo di iterare sulle proprietà come facciamo a duplicare degli oggetti a copiare degli oggetti sapete che c'è la sintassi con l'uguale ma per i tipi non di base la sintassi con l'uguale copia il riferimento quindi se facciamo oggetto2 uguale oggetto chiaramente entrambi si riferiscono allo stesso oggetto se vogliamo creare una copia dobbiamo usare questo meccanismo object.assign c'è un apposito metodo di javascript che assegna adesso vedremo cosa significano i parametri ad un nuovo oggetto aperta e chiusa graffa è l'indicazione di un nuovo oggetto viene creato un nuovo oggetto e gli assegna tutte le proprietà di book in questo caso effettivamente viene creata una copia una copia che è una copia vera quindi non è lo stesso oggetto ma c'è un riferimento ad un nuovo oggetto che esisterà indipendentemente dal precedente come funziona object.assign object.assign prende l'oggetto target sul quale andiamo a copiare tutte le proprietà eventualmente anche a sovrascrivere dell'oggetto source e ritorna sempre l'oggetto target quindi ritorna sempre il riferimento all'oggetto target quindi se l'oggetto target esiste già ritornerà un riferimento all'oggetto che esiste già se non esiste già e è stato creato sarà un riferimento al nuovo oggetto abbiamo visto che per creare il nuovo oggetto è molto facile basta mettere aperta e chiusa quadra graffa scusate aperta e chiusa graffa che crea automaticamente il nuovo oggetto in javascript quindi può essere un oggetto esistente o un nuovo oggetto e ritorna l'oggetto target dopo ovviamente aver fatto la modifica cioè l'aggiunta di queste proprietà eventualmente sovrascrivendo quelle che già esistono attenzione che questo meccanismo funziona ma fa una copia cosiddetta non profonda cioè poco profonda guardiamo questo esempio libro autore Enrico pagina 340 quindi abbiamo così study un altro oggetto quindi l'oggetto study topic javascript source l'oggetto di prima book che quindi è un riferimento a tale oggetto adesso facciamo study2 uguale object assign aperta graffa chiusa graffa quindi nuovo oggetto study ci copiamo dentro le proprietà di study e quindi avremo study2 quindi seconda situazione study2 sarà un nuovo oggetto perché l'abbiamo creato e l'abbiamo copiato dentro le proprietà di study che erano topic e source però non viene creata una nuova copia dell'oggetto book perché in source c'era un riferimento e viene copiato il riferimento e il riferimento ha lo stesso valore quindi punta allo stesso oggetto quindi non abbiamo creato una copia anche di tutti gli oggetti che dipendono dall'oggetto che stiamo copiando questo vuol dire copia non profonda shallow quindi attenzione quando si fanno tali copie come facciamo a fondere delle proprietà in realtà come dicevamo prima è sempre lo stesso metodo object assign target quindi l'oggetto sul quale vogliamo copiare ci sono l'oggetto sorgente dal quale copiamo le proprietà e poi possiamo usare tutta una serie di valori che vengono copiati sul target quindi book sempre author pages book 2 assign a book quindi andiamo a modificare book e aggiungiamo titolo js quindi avremo una nuova proprietà titolo js derivata da un oggetto che creiamo qui sul momento titolo js e abbiamo detto il valore di ritorno è l'oggetto target quindi se non mettiamo aperta chiusa graffa non è un nuovo oggetto ma è l'oggetto book che sarà quindi modificato e avremo un riferimento sempre allo stesso oggetto modificato se invece vogliamo il nuovo oggetto dobbiamo mettere come prima cosa come target il nuovo oggetto questo questa doppia questa parentesi graffa aperta e chiusa fa sì che creiamo il nuovo oggetto e poi facciamo tutto il resto assign può avere un numero variabile di parametri quindi possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo e le facciamo su un nuovo oggetto che come prima cosa ha preso author pages e poi gli è stato aggiunto title è anche possibile in versioni più recenti di javascript come vedete qui non siamo più su s6 ma siamo s9 quindi molto più recenti usare l'operatore spread ricordate i tre puntini che abbiamo visto sull'array che ci viene particolarmente comodo e funziona anche sugli oggetti ma funziona solo da una versione piuttosto recente di javascript quindi possiamo dire che per creare una copia del nostro oggetto book possiamo fare tre puntini book tutte le proprietà vengono copiate in più viene aggiunto quello che c'è scritto quindi ci ritroviamo con un oggetto che ha Enrico pages title scusate author pages title con i suoi valori ovviamente questo funziona sia a destra dell'uguale quindi per espandere un oggetto sia a sinistra per andare a diciamo separare le proprietà di un oggetto quindi quando facciamo const a b eccetera queste sono variabili che vogliamo creare perché sono a sinistra dell'uguale others prenderà tutto ciò che rimane perché ha davanti l'operatore appunto dei tre puntini e quindi quello che stampiamo sarà uno due che vengono inseriti come valori della variabile a e b e quello che resta è un oggetto non possiamo separarlo perché non abbiamo una variabile o meglio si viene inserito tutto in adals ma viene inserito sotto forma di oggetto con le proprietà rimanenti per controllare se una proprietà esiste abbiamo visto quella sintassi con l'efa ma c'è anche un operatore apposito in quindi che ritorna true se la proprietà è nell'oggetto quindi possiamo andare a verificare se author in book quindi la proprietà di nome author che deve essere una string è presente in book ci verrà ritornato true dopo che l'abbiamo eliminata ci verrà ritornato false attenzione che non funziona bene con gli array perché gli array hanno come chiave l'indice quindi qui bisognerebbe verificare 0,1,2 ma ovviamente non ha tutto questo senso non possiamo usare lin come diciamo una ricerca rapida all'interno dell'array come per esempio invece succede in python questo non vale in javascript e non andiamo a cercare sui valori invece qui per esempio p in mat esiste perché p è una proprietà di mat dell'oggetto mat non è modificabile però è una proprietà così come sono per esempio i vari metodi radice quadrata eccetera tutti questi disponibili nell'oggetto mat quindi riassumendo come facciamo a creare un oggetto questi sono tutti metodi equivalenti i primi due ovviamente sono preferiti perché molto più leggibili aperta graffa qualcosa crea immediatamente un nuovo oggetto lavoriamo con l'oggetto vuoto quindi aperta graffa chiusa graffa e quindi usiamo questi due metodi se abbiamo necessità di creare un oggetto riempito con qualcosa vuoto possiamo anche usare il costruttore generico dell'oggetto new object oppure possiamo anche usare il metodo statico dell'oggetto create però è molto più complicato di quello di sopra non si vede per quale motivo andare a complicare la sintassi per ottenere lo stesso risultato oppure potremmo usare anche un costruttore il costruttore definisce l'oggetto tramite una funzione costruttore se noi definiamo questo oggetto con la lettera maiuscola e poi lo chiamiamo col new la lettera maiuscola è una convenzione per riuscire a diciamo distinguere facilmente il fatto che è un oggetto costruttore creiamo un'istanza di un oggetto col new usando questa sintassi forse un po' più simile a quello a cui siete abituati in altri linguaggi dis punto e la 6 parametri li andiamo a far diventare delle proprietà assegnandole delle proprietà dell'oggetto corrente però perché per questo funzioni dobbiamo richiamare la funzione col new e ovviamente con i parametri che sono necessari a questo punto abbiamo tutto quello che ci serve sapere sugli oggetti e quindi possiamo passare al prossimo argomento parliamo ora di funzioni funzioni sono un elemento importantissimo in javascript assolutamente importante comprendere bene nella loro interezza sono appunto uno degli elementi più importanti in javascript e in realtà sono molto semplici da un punto di vista pratico delimitate da un blocco di codice che ha uno scope tutto suo quindi aperta e chiusa graffa di una funzione cioè uno scope della funzione e in linea di principio lavorano come quelle di molti altri linguaggi di programmazione quindi accettano dei parametri e ritornano un valore un valore che può essere qualsiasi cosa incluso quello che abbiamo appena visto un oggetto oppure un array oppure addirittura una funzione stessa se la funzione è definita dentro la funzione appunto e vedremo anche questo caso che è anche piuttosto comune le funzioni stesse sono oggetti in javascript e quindi possono essere manipolate come tutti gli altri elementi quindi possono essere assegnate una variabile possono essere passate come argomento possono essere usate come valore di ritorno quindi questo è uno dei motivi per cui javascript è molto diciamo così potente da questo punto di vista perché di fatto le funzioni sono come si dice degli oggetti di prima classe cioè sono utilizzabili nelle espressioni praticamente nel linguaggio come qualsiasi altro oggetto come se fossero appunto un array e così via quindi possiamo usarle in qualsiasi punto del nostro codice all'interno delle espressioni possiamo dichiarare funzioni in tre maniere prima più classica forse quella a cui ci aspettiamo immediatamente c'è una parola chiave apposta una keyword function un nome dei parametri una parentesi graffa che fa qualcosa quindi molto intuitiva per esempio function square facciamo il quadrato prende x facciamo calcoliamo il quadrato ritorniamo il valore e poi chiamiamo la funzione quindi durante durante l'esecuzione della funzione se noi tracciassimo le operazioni con un debugger abbiamo due scope c'è lo scope globale quindi quando siamo in questo punto c'è lo scope globale c'è una chiamata di funzione si crea lo scope locale della funzione square nella quale abbiamo 4 che viene copiato essendo un parametro e i parametri vengono passati per valore considerando che però facendo attenzione che certi però sono dei reference se passiamo oggetti array funzioni eccetera facciamo il nostro calcolo abbiamo un valore di ritorno che viene ritornato e dopo l'esecuzione ci ritroviamo in questa condizione lo scope della funzione non esiste più e abbiamo il valore di ritorno assegnato 16 e abbiamo un nome square definito in precedenza che è una funzione che è quindi un reference ad una funzione le funzioni accettano una lista separata da virgola di nomi di parametri a cui possiamo anche assegnare dei valori di default se non ci fossero questi parametri quindi i parametri possono essere opzionali questa è una sintassi comune a molti altri linguaggi i parametri sono passati per valore e questo vuol dire che per gli oggetti complessi quindi array oggetti funzioni sono dei riferimenti c'è una coppia del riferimento tutto quanto non viene passato alla funzione nella chiamata prende il valore undefined quindi noi possiamo definire una funzione con certi parametri e poi non passarne alcuni e questo è possibile quindi non genera un errore ma semplicemente questi parametri vanno al valore undefined quindi se ci aspettiamo che la funzione venga usata in questa maniera possiamo usare dei test appositi nel corpo della funzione e quindi andare a testare se questo è il parametro uguale triplo uguale undefined e impostare magari un valore di default o qualcosa utile per il resto della funzione oppure usare questa sintassi con la doppia barra verticale che quindi dice se non è un valore nullish andiamo a prendere se è un valore nullish andiamo a prendere il valore di default quindi se è undefined diventa falsi scusate più che nullish falsi andiamo a prendere il valore di default le funzioni possono avere un numero variabile di parametri tra l'altro il meccanismo del rest che abbiamo visto per gli array funziona anche per le funzioni questo potete guardarvelo tranquillamente di fatto tutti i parametri passati vengono raccolti in questo parametro ar che poi diventa un vettore che possiamo scorrere con la sintassi consueta for off non è un oggetto ma è un vettore in questo caso quindi potete guardare questo esempio che fa la somma di tutti i parametri passati per esempio secondo modo di definire dichiarare le funzioni le dichiariamo sotto forma di un'espressione function ritorna qualcosa ritorna la funzione distinguete quando viene dichiarata e quando viene eseguita nel momento in cui viene dichiarata function ritorna la funzione quindi può essere usata in un'espressione quindi possiamo avere un assegnamento ad una variabile cost fn uguale function eccetera che fa tutto quello che deve fare può essere fatto con function e basta e può essere fatto con function specificando un nome questo nome però per la verità non è utile perché non verrà mai utilizzato nelle nelle chiamate perché dovremmo sempre usare fn perché function non esiste nello scope diciamo esterno e quindi non possiamo usare do perché allora si può fare perché diciamo durante il debugging può essere utile e viene comodo per avere una funzione e si sa qual è la funzione di cui si sta parlando in questo caso invece sarebbe una funzione anonima come tante altre funzioni anonime quindi è più facile confondersi le espressioni basate sulle funzioni di fatto sono indistinguibili nel senso che se appunto creiamo una funzione direttamente nello scope globale piuttosto che una funzione assegnandola ad una variabile queste dal punto di vista operativo appaiono nella stessa maniera sono dei reference a delle funzioni quindi le possiamo usare tranquillamente nella stessa maniera quindi che siano assegnate come reference dentro una variabile o siano direttamente dichiarate nello scopo globale quindi di fatto ci sia un nome in questo caso square che si riferisce a una funzione fa esattamente lo stesso e quindi l'espressione function aperta chiusa tonda aperta graffa chiusa graffa con del codice dentro anche vuota a seconda dei casi crea un nuovo oggetto di tipo funzione e ritorna al risultato quindi non lo chiama lo crea qualsiasi variabile può riferirsi a tale funzione e chiamarla quindi posso metterla dove voglio qualsiasi posto anche come un elemento di un array una proprietà di un oggetto e se lo faccio come proprietà di un oggetto di fatto sto creando un metodo o se lo passo come parametro una funzione sto creando la sto usando sotto forma di una cosiddetta callback lo vedremo quando finiamo di parlare delle funzioni e così via quindi posso anche ridefinirla come ridefinisco il valore di una variabile quindi se assegno un'altra cosa alla variabile la funzione originale sparisce e diventa un'altra funzione quindi quando uso il nome della variabile mi riferisco a un'altra funzione terzo e ultimo modo di definire le funzioni quello cosiddetto funzioni freccia arrow function usiamo il termine inglese che diciamo tutti usano funzioni arrow è una questione sintattica però è molto utilizzata quindi è assolutamente importante conoscerla aperta e chiusa tonda con i parametri freccia quindi uguale maggiore e aperta e chiusa graffa con il codice è una versione semplificata diciamo della 2A dove abbiamo omesso la keyword function omette la keyword function fa sì che ogni tanto nel codice non sia così facile vedere che c'è una funzione perché se ci perdiamo la freccia non capiamo più che è una funzione però è assolutamente utilizzata soprattutto per esempio nelle callback perché è compatta la sintassi e la rende molto più leggera quindi esempio di nuovo il caso di prima è una funzione che fa il quadrato il cubo e la potenza quarta l'head for guardiamola sotto forma di arrow function parametro unico x corpo della funzione dopo la freccia return square x per square x quindi chiaramente la sintassi del corpo della funzione sarà diversa però dal punto di vista operativo sono tutte e tre variabili che si riferiscono tutte e tre a una funzione e quindi da questo punto di vista non c'è differenza indipendentemente da come le ho create quindi direttamente definita nello scope assegnata una variabile assegnata una variabile con la notazione arrow come faccio a passare i parametri a una funzione definita in notazione arrow bene questo è il modo abbiamo visto questo un parametro aperto e chiusa tonda se c'è un unico parametro le parentesi tonde possono essere omesse quindi attenzione che alleggeriamo la sintassi però bisogna fare attenzione a capire che cosa sta succedendo se ci sono più parametri invece ovviamente le parentesi non possono essere omesse separati da virgola come di consueto eventualmente anche con dei valori di default se lo riteniamo necessario valore di ritorno il default di ogni funzione che non ritorna niente è undefined se vogliamo ritornare qualcosa c'è la keyword apposita return è possibile ritornare un unico valore quindi non è possibile ritornare due valori però possiamo ritornare oggetti complessi quindi superare questa limitazione ritornando per esempio un array come in questo caso oppure degli altri oggetti e così via fun è una funzione definita con la notazione arrow che non prende parametri e l'unica cosa che fa è ritornare un array con due elementi una stringa e un numero che posso assegnare posso assegnare anche con l'annotazione destrutturata quindi quindi col destructuring assignment e quindi separare direttamente in fase di assegnamento del valore di ritorno a qualche cosa e mi ritrovo con due variabili stringa str e num e posso tranquillamente stampare str e quindi recuperare solo hello in fase di diciamo chiamata e recupero il valore di ritorno della funzione quindi il fatto che ci si possa ritornare un unico valore non è poi una così grande limitazione attenzione error function hanno un valore di ritorno implicito se c'è un unico valore quindi posso eliminare questa notazione diciamo aperta chiusa graffa con return e scrivere semplicemente il valore che voglio ritornare senza neanche più le parentesi graffe attenzione però c'è da fare molta attenzione anche se la seconda sintassi come vedete è leggerissima però c'è da fare attenzione perché nel momento in cui uso le graffe sono obbligato ad usare la keyword return se non metto la keyword return è un errore perché è uno statement e poi non ho un valore di ritorno il valore di ritorno diventa undefined e in questo caso se metto return il punto virgola fa parte dell'istruzione return qui invece il valore di ritorno è implicito e il punto virgola fa parte dell'assegnamento quindi let forth uguale qualcosa punto virgola punto virgola è parte dell'assegnamento quindi attenzione non è che basta togliere le parentesi graffe bisogna fare molta attenzione al return e al punto virgola quindi sintassi leggera error function soprattutto per le funzioni più semplici che fanno operazioni banali e lo vedremo utile in particolare nelle callback durante la programmazione però dobbiamo fare molta attenzione a non sbagliarci è facile sbagliarsi possiamo definire funzioni annidate quindi all'interno di una funzione possiamo definire un'altra funzione nulla ce lo vieta per esempio guardate questo statement const square uguale funzione arrow x unico parametro valore di ritorno x per x quindi molto semplicemente tutta la funzione che faceva il quadrato l'abbiamo definita in pochi caratteri e possiamo ritornare possiamo lavorare con questa funzione all'interno della funzione più esterna quindi nello scopo della funzione più esterna usarla come se fosse una funzione vera ma è una funzione vera square a più square b radice quadrata va bene calcolo il potenusa ed è perfettamente equivalente a questa scrittura function square in questo caso function essendo definita nello scope della funzione esterna sarà visibile solamente all'interno della funzione stessa quindi la funzione più interna ha lo scope all'interno della funzione più esterna e non può essere chiamata da fuori quindi dopo questa funzione non è che posso scrivere square qualcosa perché non esiste e la cosa interessante è che la funzione più interna può accedere alle variabili dichiarate al di fuori della funzione stessa quindi se dichiarassi qualcosa prima della funzione posso accederci e posso usarlo nelle operazioni che fa la funzione più interna e questa è importante perché ci porterà a trovare dei casi particolari che devono essere capiti bene dal punto di vista della programmazione javascript il caso particolare è quello che vedete qui cioè la cosiddetta closure che se andiamo a vedere la definizione è molto criptica closure è un nome dato una caratteristica del linguaggio per la quale una funzione annidata eseguita dopo l'esecuzione della funzione più esterna può ancora accedere al scope della funzione più esterna e quindi alle variabili che erano nello scope della funzione più esterna è veramente uno dei concetti più importanti da capire in javascript per quanto riguarda le funzioni ovviamente andiamo a dettagliarlo meglio perché da questa definizione non si capisce nulla dobbiamo vedere un esempio prima di tutto javascript usa uno scope cosiddetto lessicale che vuol dire che ogni nuova funzione definisce uno scope per le variabili che gli vengono dichiarate al suo interno e le funzioni annidate abbiamo detto prima possono accedere allo scope di tutte le funzioni che le contengono quindi in questo caso c'è la funzione annidata function assegnata hello che può accedere alla variabile my name che è esterna alla funzione stessa quindi la questione è che nel momento in cui prendiamo questa funzione e la facciamo uscire per esempio la ritorniamo come un valore di ritorno questa funzione può essere utilizzata e chiamata ma cosa succede alla variabile esterna che cessa di esistere nel momento in cui usciamo dallo scope della funzione più esterna questa adesso lo vediamo quindi ogni oggetto funzione ricorda lo scope dove è stato definito anche dopo che la funzione più esterna non è più attiva cioè diciamo rinchiude lo chiude in se stesso in parole povere per capire questo meccanismo potete potete pensarlo come al fatto che di fatto nella funzione più interna esiste ancora un riferimento all'elemento esterno e quindi quando il garbage collector che deve far pulizia di tutti gli oggetti che non vengono più usati cioè per i quali non esiste più un riferimento agisce in javascript e non può liberare questo riferimento e questo riferimento infatti esiste ancora per quella funzione che è stata resa disponibile all'esterno della funzione più esterna e quindi è stata ritornata per esempio dalla funzione più esterna se guardiamo l'esempio quindi vediamo che definiamo gritter gritter dice hello del suo parametro e lo ritorna come funzione quindi noi assegniamo a hello tom il risultato di gritter tom che sarà una funzione questa che stamperà hello più il parametro e quindi sarà hello tom la stessa funzione chiamata con un altro parametro la assegniamo a hello jerry e quindi sarà una funzione che è la funzione che però ricorda il riferimento a una variabile che nel secondo caso si chiamava puntava ad una stringa differente che era questo jerry e quindi se noi andiamo a chiamare hello tom avremo come risultato hello tom perché quella funzione assegnata a hello tom ricorda tom perché era il parametro che era il valore del parametro che era stato passato alla funzione più esterna che è stato usato nella funzione interna e così per hello jerry attenzione ritorniamo hello quindi la funzione non ritorniamo hello con le parentesi e questo è un errore e è un errore perché in questo caso chiamiamo direttamente la funzione e allora ritorneremo una stringa e non abbiamo non assegniamo più una funzione assegneremo una stringa e ovviamente non potremmo più chiamarla perché non è una funzione quindi attenzione assolutamente a questo aspetto quindi questa è la spiegazione di quello che succede my name questo è lo scope di hello questo è lo scope più esterno lo scope appunto più 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 grande in cui c'è my name che era stata definita e quindi ognuna delle due funzioni ritornate hello appunto ricordano il valore di my name cioè di fatto hanno un riferimento a quel my name che punta ad una stringa e una stringa differente quindi la variabile my name va fuori dallo scope della funzione esterna ma non è distrutta dal garbage collector perché qualcuno ha ancora un riferimento e infatti è ancora accessibile dalla funzione hello che è stata assegnata delle variabili quindi accessibili questa è la chiave di tutto il meccanismo delle closure il meccanismo delle closure è importante perché di fatto ci consente di emulare degli oggetti diciamo così più tradizionali in cui non consentiamo di accedere a delle proprietà dell'oggetto al di fuori dell'oggetto stesso cioè consentiamo solo a dei metodi dell'oggetto di accedere a queste proprietà come abbiamo detto prima negli oggetti in javascript è tutto pubblico quindi proprietà e metodi ma se volessimo emulare questo tipo di comportamento rimane difficile e dobbiamo usare appunto questo sistema delle closure quindi vediamo l'esempio u strict ok function counter value zero creiamo una funzione next col sintassi arrow quindi non prende parametri aggiunge una value ritorna il valore di value e ritorniamo la funzione nel momento in cui noi scriviamo cost count 1 uguale counter quindi ci facciamo ritornare da counter la funzione get next che aggiunge 1 all'inizio era 0 e se la chiamiamo una volta ci stamperà 1 perché farà più più e ci ritorna il valore se la chiamiamo una seconda volta ricorderà il valore di prima perché è la stessa funzione sempre count 1 ricorderà il valore di prima e ci da 2 e così via 3 se noi ne creiamo un'altra questa è un'altra funzione che si riferisce ad un altro valore di value e quindi ricorda il valore di value ma che è un'altra istanza di value e quindi viaggia in maniera indipendente senza fare nulla dentro count 1 diciamo così c'è ancora l'accesso a 3 ma se io creo count 2 riparto da 0 e quindi la prima volta mi da 1 2 e 3 quindi assolutamente importante da capire provate sperimentatelo e vedete che cosa succede in pratica possiamo emulare degli oggetti addirittura con dei metodi se noi ritorniamo un oggetto dalla funzione counter anziché direttamente la funzione ritorniamo un oggetto con due metodi quindi delle proprietà che in realtà sono delle funzioni queste funzioni essendo dentro lo scope di counter potranno accedere ad n ricorderanno il valore di n perché hanno il riferimento ad n e di fatto funzionano come dei metodi quindi andiamo a vedere come usarlo let c uguale counter d uguale counter quindi chiamo due volte counter e mi faccio ritornare due oggetti differenti quindi due oggetti che hanno entrambi le proprietà count e reset che sono delle funzioni lo faccio c count mi da count mi ritornerà n e poi lo incrementa quindi mi ritorna prima n 0 poi lo incrementerà per il prossimo giro d count non mi da lo stesso n me ne da un altro un oggetto differente con una funzione differente che accede ad un n differente contano in maniera indipendente faccio c reset lo riporto a 0 perché reset non fa niente dato che assegnare 0 quindi non mi restituisce nulla non ha un return c count e di nuovo 0 perché l'ho resettato prima se invece faccio d count questa volta è 1 perché non ho resettato d e quindi questo meccanismo funziona come diciamo così gli oggetti tradizionali a cui siete abituati in un linguaggio come java quindi quando create delle proprietà private accessibili solo dai metodi e così via quindi nessuno può manipolare lì fuori dai metodi ogni copia derivata dalla classe ha la sua copia delle proprietà quindi questo è emulato col meccanismo delle closures in javascript ancora una cosa sulle funzioni che può tornarci particolarmente utile come abbiamo visto le funzioni di fatto proteggono lo scope delle variabili e delle funzioni più interne e quindi può venire particolarmente utile dichiarare una funzione con delle variabili interne con delle funzioni interne e però può essere anche una cosa che abbiamo bisogno di fare una sola volta quindi facciamola una volta e eliminiamo il tutto perché poi non ci serve e allora in questo caso ci viene utile questa sintassi disponibile in javascript e le cosiddette immediately invoked function expression iife immediately invoked function expression e la sintassi è questa definiamo la nostra funzione che faccia tutto quello che vogliamo inclusi le closures e tutto quello che vogliamo prima se necessario aperta e chiusa tonda quindi tutta la funzione la chiamiamo con aperta e chiusa tonda senza parametri perché è una funzione che non accetta parametri e possiamo addirittura assegnarla ad un qualcosa se la funzione ritorna qualcosa quindi creiamo la funzione la chiamiamo e prendiamo il suo valore di ritorno e lo assegniamo direttamente in un'unica istruzione questo è possibile in javascript con queste cosiddette immediately invoked function expression vediamo un esempio per emulare il comportamento di oggetti con metodi quindi come prima const c uguale questa volta non abbiamo function ma abbiamo const c uguale qualcosa se abbiamo bisogno di definire un unico oggetto e siamo sicuri che non abbiamo bisogno di crearne altri più avanti evitiamo di creare una funzione assegniamo direttamente ad una variabile riferimento a questa funzione e in realtà la chiamiamo direttamente quindi ci facciamo dare direttamente il valore di ritorno che in questo caso è l'oggetto che ha i due metodi counter-esit abbiamo racchiuso per sempre l'n direttamente dentro l'oggetto senza che sia accessibile dall'esterno se non tramite le due funzioni definite in fase di chiamata di questa funzione più esterna che tra l'altro non ha neanche un nome quindi è una funzione anonima quindi possiamo usarlo come abbiamo fatto prima quindi ccount ci darà 0 intanto incrementa n ccount prenderà 1 intanto lo incrementa resettiamo andiamo avanti e quindi possiamo andare a lavorare con questo diciamo meccanismo che ci consente di incapsulare delle proprietà e dei metodi in maniera che non siano accessibili dall'esterno se non nella maniera in che abbiamo definito all'interno della funzione tutto questo grazie al meccanismo dell'eclosio vedremo come utilizzare ancora le funzioni in altri contesti per esempio in quello delle callbacks di cui discuteremo a breve per intanto vi ringrazio e alla prossima lezione di